Vivian Lamarc è nata a Tesero in provincia di Trento il 19 aprile 1946, dall'età di 9 mesi vive a Milano, insegna italiano in una scuola di lingue e agli stranieri. Ha esordito nel 1981 con Teresino che le valse il premio Viareggio opera prima. In precedenza aveva pubblicato, era detto, Aquilone su nuovi argomenti nel 73 e l'amore mio è buonissimo per il collettivo Guanda nel 78. Nel 1986 è uscito per Crocetti Editore Il Signore d'Oro e nel 1987 su Paragone Questa quieta polvere, poemetto a più voci, due autori viventi e 15 morti. Ha tradotto Pièce sur l'art di Valéry per Guanda nell'84 e Splint de Paris di Baudelaire per sé nel 1987. È in corso di pubblicazione Il Libro delle Ninne e Nanne, mentre è uscito in questi giorni Poesie dando del lei per Garzanti. Qual è il titolo, se ha un titolo, di questa tua poesia? Non c'è titolo, è una poesia d'amore, amore per una persona a cui non si può dare del tu, per questo il libro è intitolato Poesie dando del lei. Ho scelto una poesia molto semplice, anche se una volta in una lettura in una scuola un ragazzino mi ha detto, ma si capisce tutto che poesia è. Conterò fino a mille, poi non l'aspetto più, le lascio le voci delle margherite e i dolci nomi sera, luna, matite, le lascio la bianca carta e nuove innamorate, i rossi della sera e la pioggia gentile, le lascio i lunghi sogni e nella neve voci, voci di margherite, le lascio tutto il cielo e tutto il bene mio, ma dopo mille non l'aspetto più. Complimenti anche a Viva la Marche.